Due pistole, un mitragliatore, centinaia di munizioni e circa 20 chili di droga pronti a finire sul mercato dello spaccio. Duro colpo della polizia al clan Cipriano di Bitonto. Nel mirino degli agenti i quartieri del centro storico, passati al setaccio venerdì scorso in una vasta operazione nel corso della quale sono stati individuati grandi quantitativi di armi e stupefacenti. Gli uomini della squadra mobile della questura di Bari e il personale del locale commissariato hanno sequestrato due pistole semi-automatiche, una beretta 92 e una beretta Cougar calibro 9x21, entrambe rubate e complete di caricatore e munizioni, e una pistola mitragliatrice Scorpion calibro 7,65, anch'essa completa di caricatore e munizioni. Assieme alle armi sono state individuate anche 259 munizioni di vario calibro e 20 kg di marijuana, oltre a numerose dosi già confezionate di cocaina, marijuana e hashish, che sul mercato degli stupefacenti avrebbe fruttato al clan Cipriano incassi per circa 330 mila euro. Armi e droga erano nascosti in due locali, apparentemente disabitati. Gli inquirenti non escludono che le armi possano essere state utilizzate negli ultimi fatti di sangue registrati in città.